Ciao amici, ciao amiche, ben ritrovati sul canale di coppia Davide Chiara Channel Ebbene sì, oggi taglierò i capelli a mio papà Dato che gli ha lunghissimi, la macchinetta ce l'ho Allora andiamo a tagliare i capelli Iniziamo, sei pronto? Sì Non corro troppo ancora qui, no? Questo è un interio proprio, nemmeno così, nemmeno con la nuova Allora andiamo a tagliare i capelli Allora andiamo 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 Allora andiamo